Ragazzi è da un po' che... Oh, sono le 3 di notte, dopo vado a letto Che domani si lavora Allora praticamente è da un po' che abbiamo installato un satellite, no? Allora sulla CNN ci sono due tisti che parlano Uno è un bamboccio L'altro è... Uno che ha l'hobby della pittura Hai capito? Ha l'hobby della pittura Abitano nell'area del Bundestag, Bundestag Mangiano viuste la ripetizione Sono due comici, no? Allora praticamente questi due giornalisti pseudo-blasonati Uno diceva, vabbè dai Inventiamoci per prendere un po' per il culo l'Italia Inventiamo che Gli incidenti stradali li fanno i neopatentati Che non è vero Questo qui si chiama Michael Bloomberg Questo giornalista Non è vero Non è vero che lo fanno i neopatentati Caro Michael Bloomberg Perché è solo un 30% Chiaro? Secondo Hanno fatto vedere solo immagini di Panda Di Fiat Panda Quindi è una criminalizzazione Nei confronti della Panda Che è il manifesto dell'Italia Quindi dall'Europa Perché questa trasmissione televisiva In seconda serata Dopo le donnine Sulla CNN Andava in onda in Germania Quindi voleva offendere la Panda Che è il manifesto dell'Italia Invece non è vero niente Perché non è solo la Panda Che fa gli incidenti Anche le Micra Anche le 206 Anche le Citroen Saxo Fanno gli incidenti Sulla Che fa gli incidenti Che fa gli incidenti Grazie.